Adesso facciamo la prova del telefonino TVZ D3, un telefonino molto piccolo con la particolarità della doppia SIM. Questa è la confezione che vi vedrà a casa, TVZ è la sussidere delle note, certificato di garanzia, questo è il telefono, molto piccolo, molto sottile, disponibile anche in colorazione con bande rosse, alternativa blu o altrimenti bianco con banda rosa. L'offezione è completa di certificato di garanzia, andiamo ad aprire, c'è la sua bella batteria, lo andiamo a provare, alloggiamento doppia SIM, questo andiamo a inserire, inseriamo la batteria, la prima SIM ha già preso e la seconda SIM ha preso, non so se si vede ha preso il segnale. Il telefonino è dotato di fotocamera, è sottilissimo, è leggerissimo ed ha praticamente il menu dei Nokia, molto intuitivo, messaggi, giochi ovviamente, organizer, profili di utilizzo, multimedio, ha anche lettore mp3 e bluetooth, radio, registra immagini, registra filmati, quindi lì, poi c'è il videoplayer, fa anche da registratore, è molto molto leggero, ben assemblato, e via. Il continuo della confezione è telefono, batteria come avete visto, e c'è l'auricolare, carica batteria, questo telefono ha la particolarità di che il cavo del carica batteria è anche cavo USB e può essere ricaricato direttamente dal computer, inserendo il minimo USB sotto al telefono e la porta USB, una porta USB del computer e si ricarica, oppure attaccando l'USB del cavo direttamente al carica batteria e poi in una presa di corrente. Vi arriverà anche l'adattatore per la presa italiana, ovviamente. facilissimo da usare, leggerissimo, è ottimo perché cerchiamo un buon compromesso tra qualità, facilità di utilizzo e prezzo economico. Buono acquisto. Grazie.